Enge è un universo di possibilità per esprimere l'identità di ogni spazio senza limiti di ambizione e creatività. Ci siamo evoluti lavorando sulle palette colori e sui contrasti materici, affinché incontrassero le esigenze di tutti i professionisti. Il dialogo tra prodotto e soluzioni architetturali è ciò che ad oggi caratterizza di più il mio lavoro. Cerco di rappresentare un stile di vita che restituisca semplicemente un mood autentico. Vedo la casa come un rifugio in cui l'intimità convive con l'occasione di condivisione. C'è una leggera patina dorata che avvogge questi paesaggi mozzafiato e ho cercato di lasciarla intatta, perfetta. Vorrei che questo spazio rispettasse il luogo in cui nasce, cresce e invecchia con la luce del sole. È così che le imperfezioni si trasformano in bellezza.